venite vi porto in un posto questa modalità ha la fama di essere la modalità più inquietante di roblox quindi forse lo porterò come premete contro lo so che lo so ti fa lo strisciare le chiappe su è una figata io lo prendo non so cosa serve cioè al pari dello slenderman per dirvi aspetta metto il coso non funziona più perché l'avete già fatto voi ma qui c'è detto che non dobbiamo aver paura dobbiamo tornare un altro giorno possiamo provare ad andare avanti di nuovo e l'abbiamo presi dentro il camper dovete prenderle prima di scendere perché se non vedete niente eh io non l'ho presa io l'ho presa dalla fotocamera tutti che non prendono le torce perché sono l'unica cosa non abbiamo paura noi non avete paura non avete ma non hai paura ma vuoi vedere io ho la fotocamera cantiamo l'inno francese raga io sono da solo io sono pensavo ho trovato una batteria ecco bravo prendi la paura io sono da soli oddio è diventato tutto nero raga mi è diventato tutto lo schermo nero eh premi uno premi uno mi è fatto mi è partito oddio ma è tutto scurissimo no mi si era buggata la torcia raga sento il pianoforte suonare non ho paura non abbiamo paura e poi ma non abbiamo paura noi ma io ho trovato a lì io vado al culo eh allora devi trovare anche una connessione nuova però a parte quello le piante ok no 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 raga no 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 il mostro è paurissimo ho sentito sono di nuovo nel mio non so dove andare sono bloccato cioè ho più al mondo ho più il mostro più il mostro ragazzi una caverna da me mi devo passare si pensa in quella situazione oh ti ho sentito ti ho sentito game A me mi ha preso Si si facciamo le foto Il tempo di rientrare Una pietra Ho trovato le pietre Ho trovato le pietre E noi siamo tutti insieme col telefono Guardate che c'è un modo Effettivamente c'è un modo per uccidere il mostro Però bisogna trovare l'ascia Non sono qualcosa Vediamo Si Dove stai? Ah boh Raga c'è il mostro dietro Non lo so non vedo niente C'è un posto Ho trovato un posto segreto c'è l'ascia Possiamo uccidere il mostro C'è il mostro di là Io sono dove c'è uno segreto Io vorrei trovare chi Noi eravamo qui prima A te A te Raga Però non si Lo sento Senti qualcuno che scatta le foto Io il mostro Comunque lo sento il mostro Ho scattato una foto Qualcuno che scatta le foto Ti ho lasciato una foto Io non vedo niente Eh perché è morto Quello 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 Fai luce a quello Devo ammazzare questo Dai Ucciso Mamma mia Le abbiamo citi tutti Raga Li ritiro l'ascia pure io Forza No si è incazzato È ancora vivo È ancora vivo Come non muore Presto Mi sento riporta Ok Quanti paparazzi Uh Cioè io ti cado Ti cado da Martigain Cioè finisci lì Io arrivo tutto tutto entusiasmato bravo dobbiamo andare via di qua perchè la c'è il mostro con una fila mi sono sciolata tutte le che guardavano chi è morto ok abbiamo capito dobbiamo cercare il codice dove mettere un codice perchè c'è tipo un un corpo è il telefono però c'è anche un posto dove voglio provare qual'è l'unico per il coronavirus qualcosa mi dice che ti è arrivato in faccia il coronavirus andiamo lì allora vogliamo fare una bella foto c'è una roccia qua game io devo fare il provino dal video ok adesso io tiro la roccia raga io ho tirato la roccia raga al mostro ciao mostro ciao ok cambiamo modalità a non non c***o hop se questo video è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale attivate la campana per non perdervi tutti i prossimi video da game time antique Samu e leo purtroppo vai A presto